Ho regalato a questa città due anni di professionismo, negli anni peggiori del calcio, spendendo 8,5 milioni di euro, forse non li sapete neanche scrivere quanti sono questi numeri. Basta. Penso che, detto questo, penso di aver detto tutto. Il resto sono chiacchiere. Io le chiacchiere non le faccio, lo sapete. Parlo poco, faccio i fatti, e ho tirato a voi i soldi. Se non bastano i soldi, a me non mi serve parlare. Parlo con le persone che apprezzano ascoltarmi, perché io ho parlato, ho tirato fuori i soldi, ho fatto i fatti. Se questa è la conseguenza, vuol dire che va bene come faccio. Io ho detto ai miei figli una cosa sola. Le contestazioni mi fanno male e feriscono solo se provengono da persone che io stimo o ammiro. da dove provengono neanche le sento. Ci sono delle trattative in corso, con diversi soggetti interessati ad affiancarmi. Naturalmente, fino a che non c'è nulla di concreto, non verrà assolutamente detto nulla. Sicuramente sono persone, i soggetti che noi stiamo trattando, sono soggetti, diciamo, spendibili, soggetti solvibili, perché comunque una squadra di serie C di Lega Pro è una squadra che ha degli impegni importanti e sicuramente tanti chiacchieroni che si sono avvicinati sono stati fatti gentilmente accomodare la porta, anche delle nostre parti. Io mi sono dato una data di scadenza, entro metà di questo mese, sicuramente se non ci sarà qualche, diciamo, punto fermo, io prenderò le mie iniziative, perché giustamente la squadra si deve organizzare, ha bisogno di un allenatore, ha bisogno di iniziare a scegliere, a completare la rosa, perché comunque non partiamo da una rosa incompleta, abbiamo già una parte consistente di giocatori, abbiamo ad oggi 15 elementi contrattualizzati su una rosa di 22, più abbiamo sicuramente dei ragazzi che faremo salire la nostra Primavera 3, che si sono dimostrati essere molto validi, molto apprezzati, forse faremo salire anche un giovanissimo, in deroga, lo valuteremo, perché questa società è una società che ha dimostrato di saper valorizzare molti giovani, pensiamo di fare una squadra giovane, una squadra basata su elementi di grossa qualità, valorizzati, già li sto vedendo personalmente, insieme ad altri procuratori che me li stanno presentando, e quindi sono elementi che nel momento in cui decideremo di completare la rosa, visto che comunque tra il 15 e il 26 abbiamo ancora tanti giorni per poter stilare su carta eventuali idee, però non è detto che noi il 26 dobbiamo avere la rosa al 100%, ci avete il Presidente, penso che sia più che sufficiente, se ci sta quello che cacci soldi credo che ci sta tutto in una società, e il resto sono chiacchiere.